La politica energetica è indubbiamente una risorsa economica, soprattutto per i comuni, è anche una risorsa ambientale? Sicuramente sì, perché con l'energia pulita che produciamo con l'eolico, con il fotovoltaico, con quello da biomasse, evitiamo per esempio di far andare le centrali a carbone e quindi evitiamo di far scaricare in atmosfera polvi sottili, CO2, quindi la difesa del nostro ambiente, la difesa dell'aria che respiriamo in quanto tale è sicuramente un impegno a creare le condizioni perché chi viene in Puglia per vacanza culturale, per vacanza estiva, per andare sulle nostre spiagge, deve sapere, deve avere la certezza di incontrare un ambiente molto curato. Sì, l'energia è alternata e fina a un certo punto, perché certe volte si vedono dei siti, basta andare verso Napoli sull'autostrada, che ormai sono pieni di queste pale eoliche. Il paesaggio non è bello quando viene interessato da tantissimi impianti, quindi ci vorrebbe un equilibrio fra le esigenze ambientali e le esigenze energetiche, ripeto, trattasi di energie pulite, quindi va incentivata. La Regione Puglia è messa sotto accusa soprattutto dagli ambientalisti per aver esagerato nella concessione di autorizzazione per gli impianti, ecco come si difende l'ex assessore Lo Sappio che, lo ricordo, ha gestito la politica energetica della Regione per oltre 4 anni. Non è proprio così, tanto è vero che una legge importante della Regione Puglia, la legge 38 del 2008, ci è stata portata alla Corte Costituzionale dal governo, dal Ministro Fitto, dall'attuale governo, perché è considerata troppo restrittiva nelle autorizzazioni. in particolare il punto che esclude tutte le aree protette, non solo i parchi, anche le zone SIC e ZPS, quelle previste dalla Commissione Europea, da qualsiasi tipo di insediamento energetico anche a fonte rinnovabile, eolico e fotovoltaico. Dopodiché, è chiaro che le pale si vedono. Per la verità, io considero più obrobriosi alcuni edifici in cemento che non le pale. E per fare 1000 megawatt, indiscutibilmente, pur con tutte le regole che noi abbiamo prodotto, occorre mettere un certo numero di pale sul nostro territorio. La reazione delle amministrazioni locali e dei cittadini è oscillante e ondivaga. Spesso quelli che contrastano l'eolico ti dichiarano di essere a favore delle energie rinnovabili, ma non le vogliono sul proprio territorio. Questo naturalmente non è così facile, non è così semplice. Se ci sono dei motivi veri che riguardano il pregio della zona naturalistica, l'attività economica del turismo, il fatto che lì insistono insediamenti industriali, come noi abbiamo previsto in uno specifico regolamento un discorso, ma se è soltanto che non le voglio io, le metto a fianco, non è accettabile. In Italia la produzione di energie da fondi rinnovabili è ancora agli inizi e la percentuale di produzione Puglia a parte è piuttosto scarsa, perché il 45% dell'energia prodotta è data dal petrolio, il 34% è data dal gas. La Puglia, abbiamo chiesto ai nostri interlocutori, è destinata ad essere un riferimento per l'Italia? Ecco cosa ci ha detto in trono. Noi riteniamo di essere già un riferimento per l'Italia e soprattutto un riferimento per una politica economica, una politica energetica economica nell'area del Mediterraneo, perché siamo la regione che nel Mediterraneo ha questo primato di produzione di energia ecocompatibile, di energia rinnovabile. Su questo versante sentiamo anche l'opinione dell'ex assessore Rosappio. Provare a ridurre la produzione da fonte fossile. Da questo punto di vista la regione sta intessendo una durissima trattativa con l'energia, che è nelle fasi finali, per arrivare a un accordo finalizzato alla riduzione delle emissioni di CO2 nel polo di Cerano, anche con una riduzione del 10% della produzione a carbone. Infine, non nucleare, pochi giorni fa il Sole 24 ore ha pubblicato, quindi fonte molto autorevole, ipotesi di siti, secondo le notizie che girano al Ministero a Roma, preoccupanti per la Puglia. Si parla di Brindisi, della solita Nardova vetrana, si parla perfino del Gargano per quanto riguarda i siti di depositi di scorie e sul gas noi siamo più interessati ai metanodotti e ne arriveranno due, uno ad Otranto e uno a Brindisi, meno i rigassificatori. E concludo ricordando che sempre il Sole 24 ore, proprio due giorni fa, ha svolto un'inchiesta sul rapporto fra necessità di gas da parte dell'Italia e rigassificatori, a conclusione della quale risulta che il famoso piano nazionale di nove rigassificatori, prima del governo Prodi e poi del governo Berlusconi, è assolutamente sovrabbondante a fronte della richiesta del nostro sistema imprenditoriale e civile. E dice sempre il Sole 24 ore, probabilmente ne basteranno tre, di cui uno offshore è già entrato in funzione a Ravenna e sembrerebbe da questa inchiesta che Brindisi non sia più così conveniente perché i costi di realizzazione di un sito che è ancora sotto sequestro da parte della magistratura hanno reso quell'impresa economicamente troppo gravosa. La Regione Puglia nel 2006 ha approvato un regolamento per le autorizzazioni per impianti eolici. Nell'agosto e nel dicembre del 2008 ha approvato due delibere con l'intento di armonizzare tutta la normativa e quindi di unificare le procedure. Tutto questo però ha creato qualche problema, ha creato delle contraddizioni che ha scontentato un po' le imprese interessate a questo settore. La conseguenza è stato un contenzioso che, come ho detto prima, alimenta il lavoro del TAR. Il TAR non si è ancora pronunciato, come andrà a finire? Lo chiediamo ai nostri interlocutori. Conosco il problema perché i regolamenti li ho fatti io, insieme alcuni con lo sviluppo economico. Quello del 2006 che lei cita è proprio frutto del mio precedente assessorato. Indubbiamente ci possono essere anche delle imprecisioni o perfino delle contraddizioni. Tuttavia, quello che resta fermo è che c'è stato uno sviluppo dell'eolico che non è concentrato nelle mani di uno o due imprese. Perché se uno ha la pazienza di andare a vedere le società che hanno avuto le autorizzazioni o che sono in corso, si renderà conto che sono numerosissime. Cioè noi abbiamo garantito, pur in qualche contraddizione, il mercato a tutti, senza fossilizzare l'attenzione e l'interesse a Regione su questo gruppo piuttosto che su quell'altro. Dopodiché c'è concorrenza, è un affare interessante e io sono contento che un'impresa guadagni producendo energia rinnovabile piuttosto che guadagni immettendo in atmosfera polveri sottili, NOx, diossine e quant'altro. Quindi concorrenza e guadagni fanno sì che ognuno è attentissimo al proprio piano industriale rispetto all'altro, ma complessivamente la direzione di marcia è stata sicuramente positiva e ci viene riconosciuto anche dall'AMPER, cioè dall'associazione che raggruppa la confindustria delle imprese e delle energie rinnovabili.